Ciao a tutti, oggi è martedì 23 ottobre 2018 400 metri di corsa subito fuori PVC pipework completo il link come al solito è qua sotto e un band shoulder opener anche quello con il link qua sotto come riscaldamento e questo perché subito dopo avremo un complex sullo sbarra composto da 3 barra 5 set suddiviso in 3 chest to bar strict 4 pull up 5 chest to bar 4 pull up e 3 muscle up fatto questo passiamo al WOD è diviso in 3 parti abbiamo 4 minuti a arm wrap per cominciare con 27 calories rows 27 burpees e 27 chest to bar pull up con un resto di 4 minuti a seguire altri 4 minuti con 21 calories rows 20 burpees 21 chest to bar e altri 4 minuti di riposo e chiudiamo con l'ultimo giro sempre arm wrap 4 minuti 15 calories rows 15 burpees e 15 chest to bar pull up tutto quanto scritto qua di fianco come al solito sulla grafica il WOD è da confrontare con quello del primo maggio che è il primissimo WOD che vi abbiamo proposto con C per TV per oggi è tutto ci sentiamo domani buon WOD ciao a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti.